Nella vita incontriamo ostacoli che spesso ci sembrano insurmontabili. E per quanti sforzi facciamo sembra che nulla possa cambiare. Bisogna avere il coraggio di cambiare le direzioni per ritrovare la strada giusta. Il territorio di Lamezia Terme, la sua storia, la sua gente, sono un paesaggio aperto alle trasformazioni che guarda verso il futuro. È studiare la malattia che ci permette di comprendere il funzionamento giusto delle cose. Questo ce lo insegna la vita, ce lo insegna la ricerca di Amalia Bruni, una delle persone più incredibili che questa realtà ci ha regalato. Non ci sono formule perfette, esiste solo l'eterna complessità del fare. Lavorare davvero su un territorio significa comprenderlo culturalmente. E la cultura non è una ricetta preconfezionata, è una continua sperimentazione. Ci sono poche certezze che bisogna avere per prepararsi alle sfide della vita. La prima è non mollare mai gli obiettivi veri. La seconda è credere in quello in cui si fa, in qualunque situazione. La terza è amare tutto quello che si presenta, perché è la tua unica vera ragione di essere il tuo posto. E poi ce n'è una quattro. Le luci di Lamezia Terme sono il faro che ti impone di fare un passo oltre. Di guardare avanti. Guardare oltre. La terza è un'esforza. La terza è un'esforza. La terza è un'esforza. Grazie a tutti